Lussi migratori irregolari sono più che raddoppiati quest'anno. Nel Mediterraneo si sta generando una tempesta perfetta. L'allarme del ministro dell'Interno arriva dagli Stati Uniti, dove Matteo Piantedosi ha incontrato i suoi colleghi americani. Nell'area mediterranea, nota il capo del Viminale, transita il 20% del traffico marittimo mondiale, il 30% del gas e del petrolio, un terzo di tutti i dati internet scambiati sul pianeta. La sua sicurezza, che vede l'Italia naturalmente impegnata in primo luogo, è quindi un affare globale, del quale ha parlato con il segretario alla Homeland Security, Mayorkas. Abbiamo avuto proficui confronti su temi importanti, lotta al crimine organizzato, lotta al traffico della droga. Si tratta di un confronto proficuo su tematiche molto importanti che mettono insieme problemi di natura securitaria, di controllo delle frontiere, ma sempre nella cornice di rispetto dei diritti fondamentali delle persone. Su questo abbiamo valori comuni e quindi lo scambio di informazioni e di esperienze anche su questo tema è molto importante. A New York il ministro ha visitato il Dipartimento di Polizia. A Washington si è confrontato anche con il Vice Procuratore Generale Monaco. Abbiamo parlato per esempio sul tema del contrasto al traffico della droga e i fenomeni più recenti. C'è il problema che si sta prendendo qui, la diffusione dell'abuso di fentany, una sostanza nuova. Ho condiviso con la Monaco il fatto di portare l'argomento alla discussione del G7 dell'anno prossimo che sarà la Presidenza italiana. Prima di rientrare in Italia, Piantedosi deporrà una corona di fiori al memoriale di Ground Zero.